Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallots, il nuovo episodio dovrebbe essere il 25esimo della nostra partita con Stellaris Siamo vicini a sbloccare il prossimo Ascension Perk e ci sono varie possibilità Perché ho guardato la wiki e sostanzialmente potevo anche andare a sbloccare ricercando la cittadella Poi avrei avuto accesso alla tecnologia questa qui, Mega Engineering e poi potevamo andare a sbloccare questo Però non l'ho fatto, ora non so se è il caso di andare a fare Master Builder che aumenta la potenza dei distretti e ci dà accesso garantito a questa tech Che non è male, o se no fare Archaeology Project Io credo che i sintetici per adesso non mi interessano Quindi Archaeology Project che c'è tra quelli disponibili Eccolo qua E secondo me è interessante perché pensavo di modificare così la nostra partita Questo lo facciamo diventare un mondo cittadino e lo andremo a fondare Idem questo qui, 21 e anche quello nuovo che abbiamo, D.A.M. che l'ho chiamato Awoken Cruddle Cruddle? Cruddle? Vabbè, culla degli Awoken visto che sono nati qua E li ho lasciati come nome Awoken Perché insomma è un pianeta che non è che possiamo specializzare in molti modi, quindi secondo me ci sta Invece avremo questi pianeti specializzati Questo mondo arido lo andiamo a fare subito e sarà praticamente la nostra centrale elettrica Sentendo che non possiamo fare le megastrutture Questo mondo qui sarà la nostra farm Io ho trovato qua un mondo che non è grande ma in realtà è ottimo Non questo, quello artico Qua c'è un pianeta Qua ce ne sono due, ok, questo e questo Che praticamente sarà la nostra miniera Una miniera, quindi andrei a fare questo Tra le altre cose appunto il nostro mondo Cioè quello che secondo me dovrà essere il nostro mondo Energetico a altri bonus qua Poi ci sono altre zone interessanti Di sicuro bisogna espandersi qui E di sicuro qua c'è anche roba buona Sono pianetini piccolini questi Però guardate quanto sono specializzati Possiamo davvero specializzarli in energia elettrica Quindi se non riusciamo a fare la Dyson Sfera Abbiamo dei pianeti che possono superire a questo compito diciamo Quindi direi che così va abbastanza bene L'espansione adesso potrei fermarlo un momento Ci sarebbe interessante da prendere questo Questo di sicuro Questi due Ora stiamo facendo qua E poi andiamo a prenderci di sicuro questo però Perché i mod sono comunque interessanti E quello è un sistema interessante E poi vediamo cosa fare Perché appunto Penso che mi dovrò espandere qui E qui Per quanto riguarda gli habitat Ho scoperto guardando sempre sulla wiki Che non esistono le strutture di ricerca Ma l'unico modo per fare ricerca sugli habitat È attraverso i distretti E non è che siano molto forti Perché Cioè insomma Andiamo su canto Questa struttura da otto scienziati Praticamente qua dovrei fare Tre distretti scienziato Ma il punto è che in totale sono sei E devo Cioè non posso farne Sei così Perché ovviamente Se no non ci abita nessuno Di conseguenza penso che in realtà Faremo un habitat Diciamo fabbrica Che produrrà lois E beni di consumo Magari andiamo a togliere Qualche fabbrica di beni di consumo Qua Da Da canto Questa qua poi la andrò a togliere Perché lo mettiamo sul nuovo pianeta Quindi ci sono un bel po' di cose da fare La tecnologia Ho deciso che costava troppo Quindi non la facciamo quella Ma mi sono lasciato appunto Il salvataggio Con la tech da scegliere E io pensavo di fare comunque questa Perché poi c'è una special project Allocca special project Quindi facciamo questa Perché viola Anche se in realtà Possiamo farla sempre Cioè essendo così Col giallo attorno È sempre attiva Quindi quasi quasi Come viene a fare una di queste due Planetary shield Generator Io farei questa Che ci mette poco E le altre invece Vanno assolutamente bene così Anche perché sono già belle avanti Qua abbiamo Uno, due, tre Dobbiamo sempre tenere d'occhio Questi tre E funziona tutto come deve funzionare Qua siamo a 64 su 58 Quindi potrebbe aver senso Andare a colonizzare Qualche pianeta Che ci disturba A livello di hyperlane C'è qualche sistema solare Scusate Per esempio Questo è uno dei peggiori Che abbiamo Idem questo Però Siamo un pochino Troppo scarsi Per andare lì Qua c'è un pianeta oceano Che non me ne frega un tubo Tra l'altro Io sul pianeta oceano Quanto avrei di 80 con quelli tropical Però Non ha senso avere 80 Quando posso Modificare la specie Va bene Penso che sia tutto Quindi andiamo avanti Ora Non so Se fare Arcology O Mega structure Magari possiamo Aspettare un po' tanto Non ci corre dietro nessuno Perché In ogni caso Arcology Non possiamo farlo subito Megastrutture Non possiamo farlo subito Master build Non possiamo farlo subito Perché Non abbiamo L'economia Che sta al passo Con la scienza Quindi aspettiamo E soprattutto Qua mi deve ritornare fuori La cittadella Planet build 10.000 Che però è con Ah qua ho cambiato lo scienziato Perché non c'era più quello vecchio Cioè che è diventato Il nostro capo Diciamo Facciamo questa Così appena decido di costruire qualcosa Viene fatto Che va di sicuro bene Controlliamo anche questo Ora ho messo questa qua A fare patrolla Avanti e dietro Perfetto Già fatto Energy weapon attack Costano davvero tanto Adesso le tech Vedete che questa È sempre qui E io farei questa No Andiamo Di point defense Migliorato Oh cacchio Questa è troppo forte Influence gain E ma non possiamo che fare questa Cioè il cibo Aumenterà di brutto Anche se questa è molto bella Empire modifier Action In class game Diciamo questa Vabbè intanto questa qua La finiamo però Quella che devo prendere Ah no qua Ok Boom Quindi significa che Adesso Tu puoi arrivare A livello 9 Esatto Possono arrivare tutti A livello 9 Che non è affatto male Tu fino al 7 I scienziati possono arrivare Fino al 9 però Che non è male Allora qua come vi dicevo C'è tutta sta pacchia I più popabili Sono questi due Qua c'è scritto Una cosa che non c'è Nella wiki 3000 costa Mize C'è scritto Una cosa che non c'è Nella wiki Che lo rende più interessante Aumenta il numero Di distretti massimi Nei pianeti Di due È tanto È davvero tanto Non penso che lo farò Però è davvero tanto Potremmo anche fare questo Cioè per i sintetici Siamo pronti Ma vorrei farlo Più avanti Allora Qua è tanto Che non gioco Non mi ricordo Qua lo andiamo A specializzare Di sicuro Nella produzione Dell'Ois Quindi O comunque Nella Potremmo farlo Anche questo Scientifico Dire la verità Per adesso è così Anche se Non c'entra niente Facciamo questo Per potenziare La crescita Della popolazione Poi quando sono Al massimo Possiamo anche Cambiare idea Qua tutto Quello che voglio Allora A livello D'amenities Siamo a zero Decisione Facciamo questa decisione qua Così aumenta un po' L'amenities Boom We build something Cosa possiamo fare qua Sensor range Ship Hyperlane Detection range Questo qua Su No Hyperlane Registration Ma secondo me Possiamo anche Non fare niente Ok Va benissimo Così Qua abbiamo questo Abbiamo questo Abbiamo una stazione Difensiva Che rende tutto Sufficientemente Power Dobbiamo arrivare a 200 Perfetto Ah Cittadella Vediamo Il resto Mi interessa Direi di no Cioè Non tanto Contro la cittadella Perché se Finita questa Posso fare Master Engineering Ragazzi Lo si fa Asap Tra l'altro Devo fare Questa qua Asap Pure lei Qua siamo saliti A 6 Perché abbiamo Finito Questo qui Molto bene Potenza Subito Quello Che voglio Più gente Possibile 5.85 Perché c'è Un Minorente Mi pare Qua Credo Credo Che non ci sia Nessuno Che lavori Ok Adesso Va bene I robot Devono essere Fatti C'è La priorità Maxima Aspettiamo Il prossimo Mese Dovrebbe Esserci La Schuelta Facciamo I Voltrov Ok Ok A Manny Dispure Poi Così Decisione Posto Point Defens Building Cost Remanè sempre Lì Adesso Facciamo i Torpedos Di livello Avanzato Queste Tornano Tutte Dopo Allora Vai A fare Mining Station Ditti 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 Ok Adesso abbiamo la scienza aumentata Quanti ci metti qua uscire la Non la stavo facendo una nave da guerra io Ah no è già uscita Eccola qua Eccola qua la mia nave da guerra Molto bene Decline Noi resteremo da soli Ok perfetto C'è Fluffy che Che cacchio sta facendo lo sa solo lui Sta tornando a casa Questa dovrebbe essere sufficiente Ma non sembra che sia così in realtà Forse è caso di potenziare un po' quella flotta lì Allora vediamo di capire come si usa questo È la trade Uno Trade due Ok Quindi io vado su flotta trade due E gli dico di Aumentare un po' il numero di corvette Farne quattro Che vanno avanti e indietro Se intanto non possiamo fare un anchorage O qualcosa di questo tipo Fai le sezioni scientifiche Aiutano insomma A meritissimo posto A meritissimo posto Guardate qua quanto ha aumentato facendo così In parte che questo da amenities Quindi va molto bene Questo quello può sempre fare a 40 Siamo 6 al mese Allora organizza Festival Grazie Vediamo pure questo E lo andiamo a esibire Così c'è pure lì un sacco di amenities Questi mi insultano Chi se ne frega Oh dovremmo avere un botto di cibo Adesso Leader selection line Leader level cap Leader cost più 50% Si va bene Siete arrivate Bravo Non posso farti fare nulla Allora Tu sei già in posizione Tu sei già in posizione Piriti E' io qui E' qui E' qui Ok Poi ne mettiamo Una E' gioia Andatevi via Che non vi voglio Uno va qua Poi uno Lo andiamo a mettere qui E staranno tutti in attesa L'altro invece Non mi ricordo più Dove volevo metterlo Forse questo Qua c'è 6 Qua c'è 6 Giù c'è 6 Sul conto Non ce l'abbiamo messo Veli Cittadella Venga e geni ring No Non c'è Potremmo aumentare un po' L'armor Facciamo questo Che magari compare Visto che ci mette poco 8000 Uh X 20.000 5 3 mesi 3 mesi Tecnologia Allora no Titan Titan Sblocca i titani Però un po' presto Andrei a fare questo Che appunto Andiamo a mettere Nei pianeti Quelli Specializzati Admin camp Perfetto Questo qua E' da fare E' da fare E' da fare sempre Comunque A meno 5% Questo Guardate quanto Veloci vanno le tech Cioè Non riesco a starci dietro Facciamo Facciamo E' finita ovunque E' finita ovunque Cazzo Sclay Lo facciamo così Compriamo il cibo Allora Danno delle batterie Questo qua mi compare sempre Anche questa E' un'altra tecnologie Descobri Facciamo quella che ci mette meno Così magari esce fuori qualcosa Che mi interessa di più Perfetto Cioè se faccio Master Build Possiamo andare Subito a fare altro Questo è il punto Allora Qua mi manca un po' Di lavoratori Ha iniziato la lezione di questo Ok va bene Cosa che è finito Facciamo qua Bene Quinti 2 Attention Our warrior Growborder Couser Model Tarbo Much fighting With Each Other Many Deaths Solution We send Our Craziest Warrior To fight For Crazzy If you want Best Mercenari In Galactical League Are Before Too late Before Is too late Hmm Ci sono Possibilità Di Prendere Dei mercenari Questo cos'è Quindi posso Prendere I mercenari Figa Non lo sapevo C'è proprio Delle Flotte intere Non me ne faccio Niente Però va bene Questi 4 sono attivi Quindi questo Non è più vero Chi se ne frega Di quello Era una specie Mezza morta Mega Engineering Sì Ok Possiamo andare Direttamente Avanti Bella E soprattutto Possiamo fare Akushi Boom 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 Quindi facciamo Di sicuro Questo ragazzi Ora questi qua Ne accumuliamo 15.000 Sono un sacco Allora Qua Andiamo Come ho detto Di Di fabbriche A questo punto Direi di sì Adesso ci sono I lavori Questo qua Non so neanche Se serve più Cioè per ora Lo finiamo Almeno ci sono Altri lavori Però Poi facciamo Questo Potenziamo Questo Wow E' uscito Mega Engineering Quasi subito Quello che volevo Resource Storage Capacity Più 20.000 Quindi ora Dobbiamo iniziare A metterne da parte Un po' E poi però Wow Mega Structure Restoration Possiamo sistemare Le due megastrutture Che abbiamo E qua C'è un Ringworld Riteniamo anche Questa da parte Per fare le cosacce Queste così Bene Queste cosà Benissimo E questa spero Che capiti Ogni quarto d'ora Francamente Ci servono Più minerali Quella è una Navecintipio Che non fa Un tubo Grazie Proprio Quelli che volevo Non so se potenziarla qua Perché non so se L'atterrò qui Questa Cioè questo pianeta Deve essere un po' Un labio scientifico Questo invece di scienza Ce ne teniamo poca Diciamo 15 posti di lavoro Abbiamo 6 housing Facciamo questo Allora Non è più Il rivale valido Per il nostro impero Quanto fanno Questi Ci fanno danno Direttamente Alla hull Questo è buono Questo è Fisso Non so perché Ci sia sempre Io andrei Di Questo che Ci mette un poco Quindi mi serve Un altro rivale Giusto Io metterei Le lumache Declare un rivale Ti investo Come va di riduruto Confirmo Ok Qua inizia a esserci Una cosa interessante Da fare Allora O andiamo Di diplomacy O andiamo di Harmony Perché questo qua È semplicemente Per la guerra E francamente Non ho necessità Di farla Quindi non Cioè Di questo Per vincere la guerra Abbiamo delle armi Incredibili Rispetto agli altri Allora Lui ha Di buono Una cosa che non mi interessa Della popolazione Diplomatic inflation cost Questo non è male Invece Queste due Non me ne frega Assolutamente niente Però questi Sono tutti ottimi Perché aumenta Il trade value Riduce il costo Al mercato E anche questo Non è male Quindi questi qua Sono tutti ottimi Lui d'altro canduto Ci dà Un consumo inferiore Del cibo E ora siamo Non messi troppo bene Col cibo Poi Questo qui Che non è male Questo che non è male Ovviamente Quando finiamo Ci sta Stabilità Anche se Non vedo In realtà Un problema Con la stabilità Però insomma È tra le possibilità Ecco Questo Finora Non ci è capitato Mai Come Cosa Io andrei Di diplomacy Perché l'unica Cosa buona È questa E quella Base Cioè Quella base E quella Che finiamo Sono forti E Questa qui Qua invece Ne abbiamo Almeno tre Cioè Queste qua Sono più forti Spendiamo Meno influenza Che non è male Perché viene ridotto Da Quel 0,50 Diventerà Un meno 0,25 E poi Trust Trust Cap In addition One stop Ascend Blah 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 Facciamo questo Diplomacy Vediamo se Vediamo se il cambio Mese avviene Quello che pensavo Cioè Questo qua Cambia Tra l'altro Rivali Uno Dovrebbe aumentare Anche quello Quello dei rivali Quali sono i miei rivali No I miei Non i Quelli degli altri Where I am Uno Due Tre Perfetto Esatto Meno 0,25 Rivali Quindi Facciamo quasi Sette Di influenza al mese Bene Allora Qua Quello c'è Questo c'è La Manitis E' buona Perché c'è Quello Quindi Abbiamo Problema Di housing E poi Andrei a Costruire Questo Cioè Serve Potenziare Quello lì Idem Questo Ma adesso Non mi interessa Metterli giù Quindi Andrei Di Alloys Pesantemente Questi inizieranno A essere pochi Quindi Ho bisogno Del mio Pianeta Qua Il prima Possibile Andiamo a prendere Una delle nostre Navi Una la mettiamo Qua Non capisco Perché le navi Queste possono Muoverle Entrambi Quelle scientifiche No Cioè Quando le clicco In questa maniera Sarebbe più comodo Poterlo fare Per entrambi Vai lì Questa la andiamo a costruire Allora Che giro che fa Perfetto Dov'è l'altra Mia nave? Ma tu sei qua Non so bene Cosa fare Perché c'è questo Hub qua Di sicuro Interessante Da prendere Il cibo è diminuito Allora Qua abbiamo Il problema Di housing E di posto di lavoro Quindi Costruiscine uno E già risolve Tutti i problemi Poi Io andrei A eliminare Questo Francamente E andrei A mettere Un altro Allora Per ora Dove per forza Far così Perché vedo Che questo È sceso Ma poi Andrei A mettere Un altro Laboratorio Scientifico Non è quella Che vorrei io Uh Jump drive Possiamo saltare Da una parte All'altra Vabbè Per forza Cioè guardate Che tech Stiamo facendo È Pazzesco È Cluster Adesso possiamo No Non l'abbiamo ancora finito Per la vittoria Siamo 1500 punti Avanti a loro Ma dobbiamo vattere Fallen Empire Federation Federation Danno un sacco di punti Le federazioni Guardate qua Ma noi faremo Finta di niente Subjects Empire Anche quelli danno un botto di punti Cioè lui fa un sacco di punti Per queste due 430 number of pops Ne hanno molti più di noi Numero di colonie Bellissimo Abbastanza pari No aspetta Non è vero Noi siamo molto sotto Numero di sistemi Siamo molto sotto Ma tecnologicamente parlando Ragazzi Non c'è paragone Dai ci salutiamo qua Ci vediamo nel prossimo episodio Ora volevo curare un po' Le Queste Perché tra le varie strutture A parte che questa è stupida La cambiamo Mettiamo direttamente questa È vero che ora il cibo Non è male Ci produciamo 13 cibo Ma questo ci dà molti più dindi E i dindi In realtà li convertiamo anche in Unity Vedete Possiamo 23 unity dal trade Quindi dobbiamo pompare Il più possibile Il trade Voglio andare a mettere dentro Il nostro impero Anche questo Non so se Saltare questi Perché comunque Non voglio salire troppo Se no a quest'ora Avrei già colonizzato Tutto quanto Di sicuro In questa direzione Perché qua c'è Di sicuro una zona Dove voglio espandermi Perché Uno Due Tre Soprattutto Qua c'è un'altra zona Ottima Perché ho visto I piniti sono interessanti Poi c'è quello Quindi ce n'è da fare Uno Due Tre Ci sono tutti Va bene Dai ci vediamo Nel prossimo episodio Ragazzi GG a tutti Sì 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 Grazie a tutti.